Per concludere questo discorso voglio citare un mio compatriota che ha ricevuto questo premio. Il mio destino in qualche modo è stato eccezionale, non a causa di falsa modestia, ma per un desiderio di essere preciso. So che il mio destino è diventato più ampio della mia personalità. Ho semplicemente cercato di essere all'altezza del mio destino. Io spero che tutti avremo la forza di essere all'altezza dei nostri destini. Libertà per Alexei Navalny. Grazie. 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 Grazie.